Ripartirà la settimana prossima il piano per i nuovi asfalti messo a punto dal comune di Teramo. 190.000 euro i fondi a disposizione per il rifacimento del manto stradale in centro e nelle frazioni. Il calendario è stato stilato dall'assessore alle manutenzioni, Rudy Di Stefano. Da adesso a agosto ci concentriamo in alcune frazioni che sono Villa Vomano, Villa Falchini, per poi rientrare nel centro, quindi saranno fatti via Fonderegina, via Pepe, per poi arrivare proprio al centro, a Piazza Garibaldi, fare Piazza Garibaldi, via alcuni tratti di Via Le Crucioli e Via Le Mazzini. Facciamo in modo di fare questi ultimi asfalti durante il periodo di agosto, in modo che c'è il meno traffico possibile e in quel momento valuteremo pure se è il caso, se farlo in notturna o no, perché chiaramente fare l'asfalto di notte c'è una maggiorazione sul prezzo del 20%, quindi questo chiaramente incide poco perché capirete che un appalto di 190.000 euro non è che ci si possono fare miracoli. È chiaro e di questo abbiamo parlato anche in giunta, che per i prossimi anni sulle manutenzioni bisogna puntarci e soprattutto sugli asfaldi, quindi non è più pensabile poter fare appalti da 190.000 euro, ma dobbiamo fare in modo di liberare altre risorse in bilancio in modo che la buca lossi può essere interamente usata per le manutenzioni. Quali saranno i tempi? I tempi noi puntiamo che entro la fine dell'estate, comunque l'appalto di cui parlavo prima è completato e poi ci concentreremo a fare il prossimo piano asfaldi per la prossima estate, perché ricordo che chiaramente il periodo migliore per fare gli asfaldi è luglio-agosto, quindi vanno concentrati in quei due mesi.